Assolutamente sì, perché il senso civico credo debba prevalere rispetto a chi invece questo senso civico non ce l'ha, e anzi spesso si comporta davandolo in città. Può anche darsi, anzi sicuramente, alcuni interventi che l'anno scorso sono stati oggetto, poi durante quest'anno di nuovo sono stati deturpati, e io credo che sia opportuno tornare, perché alla fin fine deve vincere chi ha il senso civico, non chi il senso civico non ce l'ha.